Ciao a tutti e bentornati in questo canale. Oggi nuovo What I Eat In A Day. Per colazione ho mangiato delle brioscine di pasta sfoglia. Ho semplicemente preso la pasta sfoglia, l'ho tagliata in triangolini e poi ho messo della Nutella sulla base del triangolo, ho arrotolato il tutto fino a formare dei cornetti. Li ho disposti in una teglia con della carta da forno e ho infornato il tutto per 15 minuti. Ho accompagnato le brioscine con una tazza di tè e questo è il risultato. Per pranzo invece ho fatto delle cotolette al forno, che sono ovviamente molto più leggere rispetto a quelle fritte. Per prima cosa ho infarinato la carne, dopodiché l'ho inzuppata un po' nel latte e poi ho usato questa panatura fatta con parmigiano reggiano, il pangrattato ovviamente e un po' di pepe. Le ho fatte andare in forno per 10 minuti perché sono veramente veloci da fare e ho accompagnato il tutto con delizio. Per merenda ho mangiato dell'uva perché non avevo molta fame. E per cena ho preparato questa pasta che si chiama appunto filet al peperoncino, è una pasta che abbiamo preso in Calabria e l'abbiamo condita con del pomodorino e degli straccetti di buerrata. Questo video è finito, io spero che vi sia piaciuto, noi ci vediamo al prossimo video e vi mando un bacio. Ciao! Ciao!